Una mela al giorno leva il medico di torno. Il vecchio adagio è simbolicamente rappresentato proprio dall'albero di melo che oggi è stato piantato non a caso nei pressi del reparto di radioterapia dell'azienda ospedaliera universitaria Ruggi d'Aragona di Salerno. La Lega Italiana per la lotta ai tumori lo ha donato alla struttura sanitaria in occasione dei 100 anni dalla sua fondazione per ricordare a tutti l'importanza della prevenzione. Noi diciamo che viviamo nel futuro da 100 anni. La RILT dal 1922 fa prevenzione. È la battaglia di sempre. Non terapie ma prevenzione per non arrivare alle terapie. È un nostro credo e credo che tutti quanti ora l'abbiano sposato. Fare prevenzione significa tentare di ammalare di meno, anzi di non ammalarsi affatto. L'iniziativa è stata anche occasione alla presenza del direttore Vincenzo D'Amato di sottolineare l'importanza della prevenzione e anche la novità imminente in arrivo con l'attivazione del nuovo CUP regionale. Deve essere recuperato il gap. In Campania non bisogna nasconderlo. C'è un gap con le regioni del nord. Al sud c'è un gap con le regioni del nord rispetto all'attività di prevenzione. Siamo qui vicino alla radioterapia. Il Ruggi ha impegnato e sta impegnando risorse importanti nell'attività di radioterapia. Tra poco sostituiremo anche il secondo acceleratore lineare. Abbiamo veramente attrezzature di ultima generazione ma non dobbiamo arrivare lì. Il modo per non arrivare lì è di fermarci prima. Abbiamo uno strumento alla prevenzione. Tumore della mammella, tumore del cervice, tumore del colon retto. I dati sono spaventosi. Si abbatte la mortalità, si migliora la qualità della vita, si fa sì che non si parli più di malattia mortale, non si parli più di cancro. Il cancro si avvicina alla cronicità. Se riusciamo a fermarlo, fermarlo in tempo, lo strumento abbiamo in mano noi. Dobbiamo sottoporci all'attività di prevenzione. Quando ci chiamano, quando ci informano, quando ci arriva la famosa lettera ASL, dobbiamo recarci nelle vari presidi. Sono tanti. Siamo tutti impegnati. Anche i pazienti del Ruggi devono avere un po' di pazienza perché ci sarà questo periodo di buio in vista dell'attivazione dell'importante nuovo servizio di prenotazione regionale. Quello è un altro degli obiettivi raggiunti dalla Regione Campania. Lo stiamo raggiungendo, si sta raggiungendo in tutte le aziende con la creazione del CUP Unico Regionale. La Regione è vicina al cittadino, ai singoli cittadini della Regione Campania. Quindi per trasparenza, per efficacia, per efficienza mi auguro che ci sia un ritorno. Ovviamente forse nella fase iniziale ci sarà anche qualche piccolo disagio, va bene, ma il tutto viene portato avanti con grande determinazione per raggiungere un risultato che sarà sotto gli occhi di tutti, mi auguro, a breve. Grazie.